Presidio dei lavoratori di Sanita Service USB, questa mattina presso la direzione generale dell'ASL di Taranto. Il mancato passaggio a full time del personale, nonostante la grave carenza di personale e l'eccessivo ricorso alle ore di straordinario. Il mancato pagamento dell'indenità di turno H24, indenità di rischio radiologico e biologico, mancata adozione del modello organizzativo organigramma. Questi temi oggetto di discussione. Dopo aver tentato più volte di discutere delle questioni importanti che riguardano il personale ausiliario di Sanita Service, visto che il tentativo di raffreddamento della prefettura di Taranto si è concluso con esito negativo e che la ripresa delle trattative sindacali con la parte datoriale sono state rinviate ripetutamente, abbiamo deciso che è arrivato il momento di farci sentire in maniera forte, soprattutto perché, per l'ennesima volta, nonostante le dichiarazioni verbalizzate c'è stata una convocazione a tavoli separati, ha dichiarato Giovanni Palazzo, USB, lavoro privato. L'abbiamo ascoltato. L'AS ad oggi non ha ancora convocato, se non oggi, a tavoli separati e ovviamente i lavoratori non vogliono farsi rappresentare da chi in questi anni non ha mai rivendicato i propri diritti, nel senso che non si può, nei confronti di sigli sindacali che rappresentano da soli il 30-40% dei lavoratori all'interno della Sanita Service di Taranto, non si possono escludere questi lavoratori da farsi rappresentare. Anche perché questi lavoratori hanno visto che in questi cinque anni non c'è stato nessuno che ha chiesto diritti contattuali per istri per loro. E per cui siamo qui a chiedere alla Direzione Generale di smetterla di questo tentativo di rimpallo delle responsabilità fra l'AS, la Sanita Service, questo tipo di dilatare i tempi nel vedere riconosciuti questi diritti. Questi lavoratori da oggi sono disposti a tutto. C'era stato un grosso problema all'interno della Sanita Service di Taranto. Si pensava a gennaio dello scorso anno che una parte di loro, circa 208 lavoratori, della seconda internalizzazione, di quella che viene chiamata seconda internalizzazione, dovebbero essere, diciamo, quei servizi dovrebbero essere riaffidati all'esterno. C'è voluta la nostra mobilitazione per fermare tutto ciò. Questi lavoratori ad oggi sono ancora all'interno di Sanita Service e noi abbiamo tutta l'intenzione di mantenere questi servizi affidati a Sanita Service. Grazie a tutti.